benvenuti a tavola con nutrizionista oggi prepareremo una parmigiana fit la parmigiana di melanzane è un piatto si sa squisito ma è tanto buono quanto calorico e pesante oggi andremo a preparare una versione un po più leggera di questa fantastica ricetta per preparare la parmigiana fit ci serviranno delle melanzane grigliate io ho comprato quelle surgelate già pronte sono super comode vanno stra bene però ovviamente nessuno vi vieta di prepararvele a casa poi servirà della polpa di pomodoro sale e origano della mozzarella a basso contenuto di grassi quindi la classica mozzarella light un po di parmigiano e un filo d'olio prima di andare avanti ti invito a lasciare un like al video ed iscriverti al mio canale youtube inoltre ti ricordo che trovi tutte le quantità degli ingredienti insieme ai valori nutrizionali della ricetta sul mio sito www a tavola con nutrizionista punto it ti lascio il link qua in basso ma adesso passiamo al procedimento a tavola con nutrizionista punto iti viaggi al video Grazie a tutti. Grazie a tutti.